Il vino non basta dire che è buono, serve conoscerlo e chi più di un sommelier può essere la giusta guida per arrivare a saper distinguere al meglio i migliori sapori. Passione e papelle gustative al massimo fanno dei tre miglior sommelier Veneto una binata vincente. Come i tre moschettieri armati di taste vinca, vatappi, frangino e termometro hanno conquistato in tre anni diversi la giuria dell'ambito premio voluto dall'associazione AES Veneto ad accomunarli la provenienza geografica, arrivano tutti dal veronese e ora hanno ben pensato di portare avanti insieme un sogno, una guida al buon vino a saper bere bene al punto che hanno coinvolto ben... All'incirca sono circa 400 cantine, in tutto il compressore della provincia di Verona abbiamo 1924 cantine possibili. L'idea di una guida nasce proprio dal bisogno di... Proprio c'è la voglia che Verona e il vino di Verona ritorni grande e da qui parte proprio l'idea di fare questa, chiamiamola guida che vuole essere anche non una semplice guida ma vuole proprio veramente accompagnare all'interno delle cantine. Sarà una guida diversa, no punteggi, no segnalazioni ma solo la voglia di raccontare un territorio, di far sì che tutti abbiano modo di apprezzare il buon ettare degli dèi. Insegniamo a usare veramente il vino a tavola e poi riportiamo anche il nostro sapere per quello che è tutta la particolarità inno gastronomica del nostro comprensorio proprio alla disponibilità di tutti, perciò questa guida che troveremo in edicola già dal 30 di giugno deve essere proprio un riscoprire quello che è per noi vino passione, amore e territorio. Ultimata verrà abbinata per un tempo determinato al quotidiano dei veronesi l'arena giusto modo per farla conoscere per primi ai padroni del territorio che ha dato al mondo i migliori vini, uno fra tutti per esportazione, l'amarone conosciuto in ogni dufe.